È arrivata in Consiglio Comunale Arcense la discussione riguardo alle guardie mediche. La maggioranza ha bocciato la mozione presentata da Andrea Ravagni, che impegnava il Sindaco e la Giunta Comunale a chiedere che la provincia rivedesse la deribera dello scorso giugno, esercitando così la propria autonomia e competenza concorrente in materia sanitaria, ripristinando la capillarità del servizio di guardia medica serale, notturna e festiva, nel territorio dell'Alto Garda e Ledro. Per il Sindaco Alessandro Betta, le nuove direttive provinciali non hanno minato l'efficienza del servizio, ma Ravagni contesta quanto affermato dal primo cittadino, sostenendo che al momento non esiste alcun dato che possa sostenere il fatto che non vi siano delle criticità in merito. Critiche anche le altre opposizioni, a cominciare dall'onorevole Mauro Ottobre, seguito poi da Giovanni Rullo del Movimento 5 Stelle, che hanno giudicato in modo negativo sia l'amministrazione provinciale, sia il Sindaco Betta per i tagli operati in ambito sanitario.